un saluto a tutti sono natron e bentornati sul mio canale oggi continuiamo la nostra avventura qua su tomb raider 2 e ci avevamo lasciati che siamo finiti di sotto di sotto qua la nave relitto diciamo il ponte il ponte della della nave abbandonata ma non vi preoccupate ci torneremo sopra più avanti anche perché dobbiamo prendere due segreti che abbiamo lasciato allora dunque vediamo un po io vorrei un attimo andare a vedere di qua ecco questo masso da da spingere da attirare insomma perché secondo me qua c'è qualcosa ma spingi un secondo o non c'è niente semplicemente dicevo che forse non c'è nulla è una proposta spingere perché questo lo spingi cara allora dunque a questo non può andare più avanti di così e ho capito però se io allora se io quello lo metto là quello lo spingo in là chiaro 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 chiarissimo quindi vai di qua vai di qua spingi questo più avanti poi dovremmo andare in alto la destra che roba da vedere con un salto almeno credo che ci si va con un salto eh non lo so ma penso comunque di sì non è che mi sembra molto stabile eh sinceramente però si prova si prova tentano a nuoci infatti ah che cavolo c'è a fare quello qualcosa scusate fermi perché mi ricordo che qua c'è qualcosa bisogna tirare questo in qua e anche quello davanti perché mi sa che lì dietro si nasconde si nasconde qualcosa ho la netta che se vedete le texture si intravede qualcosina dentro si intravede qualcosa quindi sì ora capisco infatti non mi tornava detto com'è che lo spingo qua questo affari non c'è non c'è nulla quindi basta fare così sperando che non ci sono nemici credo ho una chiave da inserire e di bengala che fanno sempre comodo ho la chiave di poppa uh è questa quindi abbiamo trovato dove mettere la chiave di poppa poppa però poppa poppa questo non lo so c'è dell'acqua mi butto ah forse qua si va a prendere il no non credo il primo segreto ma non volevo salvare veramente volevo solo prendere il bengala tutto qua tutto qua buttiamoci tanto che c'è tutto affare c'è altro che c'è affare ed esploriamo qua i fondali oceanici è già tutto finito no ah ok beh qua credo che bisogna togliere semplicemente l'acqua in un modo o nell'altro però non vedo altro comunque bisogna secondo me bisogna venirci dopo anche perché abbiamo visto che là c'è effettivamente un masso da da spostare quindi niente ci verremo più avanti ora continuando l'esplorazione allora qua c'è una porta con una chiave di inserire che però non ce l'abbiamo quindi bisognerà sicuramente trovarla la poi bisognerà spostare quello penso di qua non c'è niente abbiamo detto mi pare no va bene beh qua si scivola allora bisogna saltare da qua e qua si torna praticamente indietro ora però noi bisogna andare in alto magari non in questo modo però bisogna cercare un modo di avanzare io però vorrei tornare un attimo di sotto e lì dopo c'era quell'acqua perché voglio vedere a modo perché mi sembra strano che non c'è nulla cioè siamo andati qua e non c'è niente va bene ok ci sta ci sta però boh magari controlliamo bene c'è qualcosa da da tirare una leva da da tirare non lo so questo non credo che lei la può spostare no infatti ma non c'è nulla proprio eh no eh vedete infatti ho detto ci deve essere una leva qualcosa da tirare qua sotto acqua perché ok che c'è l'acqua però ah la botola ok però ho detto orecchi non c'è effettivamente nulla e ci hanno fatto andare lì per niente mi sembra un po' un po' strano ecco quindi andiamo a vedere che cosa c'è nella botola appena aperta oh salve lei ok uh proiettari per il fucile meno male ne sentivo un po' la mancanza ah la botola era questa pensavo che era quell'altra no sì questa è quella che andiamo di sotto e poi si va esatto siamo qua allora salvo in modo che non dobbiamo rifare di nuovo tutto quanto e si prosegue vediamo dove ci porta questa scala ah tutto qui cioè io mi aspettavo una zona nuova da esplorare con nemici da ammazzare dalle altre ma porca puttana sto giocatore è fatto così i primi 5 capitoli io non ho visto un cazzo però presumo che sia non lo so e penso che sia dove c'è no ma non ci ha fatto non ci ha inquadrato non lo so non lo so non ah no quello dove era prima era un masso da attirare avevamo noi tirato poc'anzi la leva che apriva questa botola che si è aperto qua tipo qua a destra no ma si può saltare va secondo voi no quindi è impossibile andarci si c'è tipo un muro un muro invisibile no ma qua bisogna venirci poi più tardi più avanti a sapere che cavallo ha fatto perché io da quanto era buio non ho capito nulla ho aperto questa porta ma non credo ho aperto questa porta no qua ci si può venire però non non mi fa andare aspettate dove abbiamo bisogno no è troppo lontano è troppo lontano e no oddio forse ci si fa ma cazzo in diagonale l'aria poteva aggrapparti quel mint anche se era in diagonale no eh troppo facile altrimenti troppo facile è l'unico a venire che tornare qua in acqua e tornare indietro perché non mi viene in mente niente di cosa di cosa fare dove andare soprattutto ah ci sono sti più sciaccia maledetti non è che ha fatto qualcosa in questa zona ma non credo no non non penso no perché sopra si ci si arriva da un'altra parte ci si arriva da un'altra parte sopra cazzo che troie no non c'è niente qua e allora via andiamo dietro porca miseria è un via vai il porto non è il porto vabbè è chiamato il porto un po' appunto nel nel però no mi sa che è stato tradotto male in italiano perché in inglese il livello si chiama the deck che è il ponte penso che si riferisca al ponte della della nave non al porto anche perché il porto appunto qua non c'è ne manco l'ombra io volevo provare a saltare qua però non mi salto ovviamente dove voglio io ah ma no davvero qua abbiamo visto che non c'è niente faccio l'ultimo giro e poi comincio l'esplorazione per conto mio perché altrimenti qua non si capisce niente qua là non c'è niente qua eh c'è qua però vedete no eh dai per un pilo vado a vedere qua di sotto perché non no no non sono riuscito a capire dove ah era semplicemente l'acqua che l'hanno tolta grazie gioco per avermi fatto capire perfettamente dove era la zona grazie mille grazie fanculo cazzo so che ho trovato un sacco di salute a saperlo prima ce l'ho già venuto e non era mangiato così la salute però vabbè non ce la mettiamo dai è qua tutto normale è qua tutto normale allora dove cavolo siamo oh dall'altra parte attenzione bene siamo dall'altra parte e quindi qua è già finito ah riprende va bene allora qua ci sono qua c'è da prendere il primo segreto e ci sono anche uno o due che ci daranno parecchio fastidio quindi io farei una cosa di questo tipo qua infatti pezzi di merda mi stanno già sparando addosso vabbè che cavolo di distanza sparano poi questi due scusate ma veramente dei pezzi di merda ah sto qua però lei non li mira sperano dalla distanza abissale porca miseria allora cerchiamo di venire un secondo no un secondo da nessuna parte eh vabbè facciamoli fuori in questo modo sono due tra l'altro mi sa uno è morto l'altro l'altro è là muori porca miseria ah vaffanculo vai che bastardo fa consumare anche il cazzo del kit grande tutti voi i proiettili mi ha fatto consumare tutti gli arpioni toh ne sono rimasti otto maledetto maledetto che non sei altro allora qua c'è il primo segreto da prendere e non lo prendiamo aha ma l'ha detto aha perché è in acqua l'ara e quindi non può dire aha in acqua si può salire qua sul gommone no mi sa che qua sul gommone ci arrivava c'era l'oggetto si si arrivava da un'altra parte si 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 non è questo il caso allora da qua forse potremmo tornare in alto cioè sul ponte della nave troppo alto perché devo comunque anche esplorare non è che non posso aha questo è per alto allora bingala e andiamo sotto bingala e andiamo sotto a modo da vedere a modo tutto quanto qua ci si può andare mi sa di sì uh sì che bello cazzo eh ma no con l'arpione ma che cazzo mi combini porca puttana ma no male che con due colpi muoiono ovviamente non mi lasciano nulla bravi bravissimi ok munizioni per l'uso che fanno sempre comodo questo è da spostare non mi ricordo mica no non è da spostare attenzione non è da spostare perché non sei da spostare tu perché ah bisogna venire di qua mi sa già 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 però non so cosa c'è qua sotto forse non c'è nulla non credo che ci sia nulla interessante forse è un modo se uno casca diciamo almeno può tornare dall'altra parte stacca eh lo sapevo che c'era uno stronzo la sapevo che c'era uno stronzo però ci ha lasciato i proiettili del fucile grazie molto gentile finalmente qualcuno che ci lascia i proiettili nell'arma giusta e non proiettili a caso salve dai di qua che c'è madonna che bordello io ve l'avevo detto che questo era un livello lungo ragazzi ok qua è dove noi dobbiamo andare però voglio andare a vedere ecco cosa c'era sopra perché magari ci perdiamo roba a parte mi sa che devono forse una salute ci basta perché bisogna lanciarsi mi sa da di sotto però bisogna forse prima spostare il gommone in modo che la cassa ci venga direttamente sotto in modo da non morire in modo atroce ecco bingala e non vedo praticamente niente ok si sale e poi non lo so qua tu cosa ok si va sempre più in alto sempre più in alto sempre più in alto più cavolo stiamo andando oh chiaro il pezzo che vi dicevo per poter tornare sopra palla al ponte ci andiamo subito perché bisogna recuperare i due segreti poi probabilmente vedremo anche tornarci più avanti però non lo so va bene io però e ci sono dei nemici qua da affrontare però non so dove cavolo sono uno dovrebbe essere qua fatti allora uno è qua o tra l'altro c'è una porta poi la apriremo poi vedremo un po' prendere le pistole automatiche che non si sa mai no ma te vado con le pistole normale non c'è mica voglio di sprecare munizioni per un cretino come te eh cazzo giù ora secondo te vado a sprecare munizioni con un idiota come te buone comunque vengala si farà comodo preferivo le munizioni ma però perché noi ve lo siamo sopra noi che dovrebbe esserci gente anche sotto c'è un tizio sotto con il lanciafiammi questo me lo ricordo questo me lo ricordo però prima di far ciò qua non c'è niente io volevo vedere però qua qua ecco non credo sia fattibile no fattibile è troppo distante magari si si posa no niente pensavo che si poteva aggrappare per andare sopra a vedere cosa c'era ma a quanto pare non si aggrappano proprio distante a o a 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 o forse mi confondo male boh si vede che mi ricordo male non c'era però c'era una di quell'altra boh si vede che mi ricordo male forse mi confondo con quello che abbiamo trovato all'inizio del livello questa si sposta questa si sposta si vede si vede che si spostava sono munizioni questo sbaglio si munizioni però questo che si sposta sicuramente va messo va portato in qualche punto allora il segreto è nascosto dietro questa porta eh no allora ve l'avevo detto che c'era quello con il lancio fiamme me lo ricordavo porca miseria eh vedete che c'è davvero va bene spara quello ti rompo forse più le scatole quello è stato prima che ci raggiunge fuoco bello è che è morto però me lo ricordavo che qui c'era uno che arrivava poi uno con il lancio fiamme eh ho detto questo ho confuso io con quello ad inizio del livello o o c'è davvero e qua c'è il secondo segreto bene ora facciamo un secondo il punto sulla situazione perché? ah no bisogna anche andare a prendere il secondo segreto l'ultimo segreto ma quasi così ci andiamo che dovrebbe essere di qua dovrebbe essere dovrebbe essere dovrebbe essere in una di queste zone qua in alto dove noi dobbiamo andar cioè andarci sì aspetta sento comunque cazzo che spara sono pazzi affanculo e che mi spari da là muori ah forse è là sì quindi bisogna andare di sotto comunque e andiamo e vediamo di tu hai lasciato roba? no qua c'è un'altra da spostare per tornare sto popolo va bene chiaro chiarissimo qua non c'è altro ok ci si può tornare poi da qua sopra se c'è lo scivoletto oh guardate guardate dove siamo inizio del livello boia siamo siamo tornati qua ah e il segreto è qua ora ve lo faccio vedere dove si trova e poi possiamo anche salutarci che però bisogna andare qua sopra e per andare qua sopra bisogna passare da di qua ok quindi bisogna salire da di qua sicuramente no porca miseria però oh è che bisogna fare tipo no bisogna salire qua però non mi ricordo da dove si scivola eh no ma c'è un modo per ma si scivola no bene mi ricordo che il segreto è là vedete là dove c'è quello però non mi ricordo come si va ad andarci comunque direi di chiudere qua ecco perché non c'è molto altro da esplorare forse oh si forse ho capito cosa bisogna fare comunque se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo episodio di Tomb Raider 2 ciao 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 Grazie a tutti.